E' il tricolore ad accompagnare le complesse vicende dei pari autisti nel teatro delle operazioni. Quella bandiera è patrimonio d'onore, sangue e sudore. Ha rappresentato e rappresenta le nostre radici. Ancora oggi la nostra bandiera è l'essenza dei valori del nostro fondamento, del nostro vivere da pari autisti, il nostro tratto distintivo. E' il valore aggiunto di chi ha affrontato le sfide di ieri, di chi affronta come noi le sfide di oggi e di chi affronterà quelle future, sempre a difesa della nostra storia e delle nostre tradizioni. Il nostro compito oggi è tradurre tutto questo in azioni concrete e offrirle alle generazioni più giovani, rendendole le aree opportunità di crescita e di affermazione sotto i colori dell'esercito italiano e della brigata pari autistico. Il bianco, concludo citando un passo nel discorso tenuto da Giuseppe Carducci. E subito quei colori parlarono alle anime generose e gentili, con le ispirazioni e gli effetti delle virtù onde la patria sta e si augusta. Il bianco, la fede serena alle idee che fanno divina l'anima nella costanza dei savi. Il verde, la perpetua rifioritura della speranza a frutto di bene nella gioventù dei poeti. Il rosso, la passione ed il sangue dei martiri e degli eroi. E subito il popolo cantò alla sua bandiera che ella era la più bella di tutte e sempre voleva lei e con lei la libertà. Folgore! Il verde, la partita di un'esercito italiano e il verde, la partita di un'esercito italiano e il verde. Il verde, la partita di un'esercito italiano e il verde, la partita di un'esercito italiano e il verde.